Di recente vi ricordo che i talebani hanno preso il potere della città di Kabul è una vicenda questa attualmente vera, quella che si è verificata, ripeto di nuovo dove i talebani, questo gruppo di persone, di esseri umani, hanno letteralmente preso il potere di Kabul io ricordo a tutti che Kabul è, se non erro, la capitale e la città più grande dell'Afghanistan quindi diciamo che Kabul adesso è in mano ai talebani che hanno assunto il loro potere con potere azzardo a dire e gemone, va bene? Dunque diciamo che la condizione, la situazione per quanto riguarda attualmente le cose sembra abbastanza normale, tranquilla e serena, però bisognerà aspettare di vedere, di valutare gli effetti che saranno concreti e reali nelle prossime ore di tempo anche per rendersi conto di quella che sarà la situazione, l'attituation vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi cari utenti di Youtube, iscrivetevi al canale della notte, nello commentate ciao a tutti, al prossimo video